La squadra mobile della Polizia di Rimini, sezione narcotici, ha tratto in arresto tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 44enne della Costa d'Avorio, regolare sul territorio con un lavoro da saldatore, e due tunisini, un 31enne con regolare permesso di soggiorno e un 29enne clandestino. I fatti risalgono al 3 marzo scorso, quando alla Polizia era giunta la segnalazione di un tunisino che a bordo di una bici elettrica svolgeva attività di spaccio in zona San Giuliano Mare. Individuato l'uomo, la Polizia lo ha pedinato con la convinzione che lo straniero avesse con sé alcune dosi di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato in via Coletti, alla rotonda della Rosa dei Venti, ed è stato così controllato. In quel momento non aveva niente addosso e così gli agenti sono andati nel luogo dove il tunisino aveva lasciato la sua bicicletta, trovando alcune dosi di eroina nascoste in dei vasi. Il mezzo si trovava all'interno del giardino di un condominio dove l'uomo è risultato risiedere. La Polizia ha allora cercato di contattare la padrona di casa, che però ha affermato di non avere le chiavi dell'appartamento. Nel frattempo gli agenti hanno scorto un uomo che dal terrazzo della mansarda era salito sul tetto per prendere qualcosa, poi era rientrato in fretta in casa. Subito la Polizia ha cercato di sfondare la porta dell'appartamento, mentre dall'interno più volte hanno sentito tirare lo sciacquone del water e dei violenti colpi. I sospetti a quel punto si sono fatti certezze per gli agenti. Lo straniero sul tetto aveva preso della droga e stava cercando di disfarsene. Finalmente l'uomo ha aperto la porta tentando di cogliere i poliziotti di sorpresa e fuggire, ma è stato subito bloccato dagli agenti. Poliziotti che sono intervenuti, i ragazzi della squadra mobile si sono dovuti sostituire al personale dello spurgo perché hanno dovuto andare a cercare la stupefacente negli scarichi sia del water che delle fogne per recuperare lo stupefacente che era stato gettato nel water, nel tentativo di disfarsene. Comunque è stato tutto recuperato, perlomeno una gran parte è stata recuperata così come sono stati sequestrati denaro e appunti, cifre importanti che serviranno per il proseguo dell'attività investigativa.